La San Giovannese esce tra gli applausi dello Stadio Aragona di Vasto al termine di una partita perfetta dove gli azzurri hanno confermato il loro ottimo periodo di forma entrando di diritto in zona playoff grazie ad un eloquente 3-0. A dire il vero era stata la formazione abruzzesa ad iniziare in maniera più convincente il match colpendo subito un palo direttamente su calcio piazzato di Cacciaglia, Vaccarecci battuto. La San Giovannese non si scompone nonostante il prematuro infortunio dell'esperto Bernini costretta ad abbandonare il terreno di gioco causa infortunio muscolare dopo appena 7 minuti il Marzocco al tredicesimo concretizza nel migliore dei modi la prima buona occasione cross del neo entrato Zane, palla che arriva tra i piedi di Pippi che grazie anche alla deviazione di Ambrosecchia regala agli ospiti il vantaggio. San Giovannese cinica è spietata che non si fa pregare neanche al diciannovesimo svarione difensivo di Di Berardino che libera a tu per tu con il portiere Sasciacori che con freddezza batte di nuovo Gaudino e mette in cassaforte il risultato 2-0. La provasto accusa il colpo e sono rare le sortite offensive della compagina allenata da Di Meo come quella al ventottesimo quando Soria ben liberato davanti a Vaccarecci fallisce la più comoda delle occasioni. Prima del riposo arriva anche la botta di Suriano da 25 metri respinta con i pugni dall'estremo valdarnese. Nel secondo tempo l'attesa reazione d'orgoglio dei padroni di casa in realtà non riesce ad impensierire un'attenta retroguardia azzurra e infatti a metà ripresa fa tutto di anda. Prima il giocatore del Burkina Faso si fa rispingere con i pugni un bolide di destro da Gaudino. Poi è il più lesso a raccogliere la sfere a servire un assist al bacio per Garufo che con un destro a giro mette la ciliagina sulla torta sulla domenica perfetta degli uomini di Mister Fraschetti. A partita acquisita arriva anche la traversa sul tiro cross di Laboragine e la clamorosa occasione fallita da Raimondi subentrato a Cori. La sostanza però non cambia e così la Sangiovanese porta a casa tre punti di fondamentale importanza che proiettano il Marzocco al quarto posto della graduatoria e adesso i play-off sono un obiettivo concreto.